Dedicarsi così tanto a una storia come questa, dall'altra parte, ti rende la vita straordinaria. Fare Amleto è una cosa che ha un valore in sé perché è una montagna, un ruolo incredibile, è un testo incredibile. Immergersi totalmente nel lavoro è bello appunto perché ti permette in qualche modo di estraniarti dal resto più che in altri contesti. È bello quando si riesce un po' a lasciarsi andare, a donarsi anche al pubblico e credo che sia accaduto per molti di noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.